La bellezza salverà Napoli? Un quesito a cui è difficile rispondere senza l'esercizio della retorica ma ci hanno provato comunque davanti a un pubblico eterogeneo nell'anagrafe il parroco di San Giovanni Maggiore Don Salvatore Giuliano da tempo impegnato in prima linea contro movida violenta e assenza di controlli nel centro storico e due rappresentanti dell'intelligenza napoletana il docente di storia moderna dell'università orientale Riccardo Naldi e la storica dell'arte Francesca Amirante. Conclusioni? La bellezza non salverà Napoli ma serviranno piccoli gesti quotidiani da parte dei suoi abitanti. Dobbiamo uscire dalla concezione che la tutela sia legata all'azione dello Stato e a soldi che dovrebbero arrivare. Molto spesso la tutela è semplicemente tenere in ordine un po' di manutenzione, evitare che i luoghi diventino dei depositi di tutto di più. Sono piccole azioni ma che fatte darebbero tutto quanto un altro decoro. Basta vivere nella città più bella del mondo perché questa città si salvi oppure c'è bisogno che questa bellezza possa poi diventare etica. Servono esami di coscienza di napoletani che ci dobbiamo sensibilizzare un po' di più a non imbrattare questa città, a curarla perché sappiamo bene che il grosso del problema siamo proprio noi.